A seguire! Vediamo, troviamo pronta la 131 di... E faremo girare assieme alla vettura di Fabrizio Arata. Grazie per la visione! Vi aspettate le due vetture, veramente, grazie a tutti! Ovviamente portate le due vecchie glorie come il volto dell'allievo, la dicono tutta! Ok, procediamo! Allora, 131 vensi per Vettifogo, 128 per Gaspari. Noi avremo Dalmaso con la Clio, Renault e... Grazie! 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 Grazie!